Per una partita in fase di definizione, le elezioni, il ballottaggio di Verbania, un'altra partita terminata alle regionali, dove peraltro lei era candidato. Si è lavorato per una coalizione che vede il sindaco uscente presente con una propria lista, un assessore uscente presente con una propria lista, grande collocazione civica e noi come unica forza politica che ha appoggiato quest'idea. Siamo stati compressi da queste due polarizzazioni importanti, quindi del sindaco uscente e dell'assessore comale uscente. Nel contesto speriamo di poter procedere con questo 10%, che comunque è un risultato di interesse per quanto riguarda la seconda fase di ballottaggio, speriamo di poter procedere assieme, quindi di poter prendere delle decisioni insieme, perché diversamente ognuno farà le proprie valutazioni. Ma non essere stati della partita per le primarie, c'è qualche ripensamento? Ma allora, di fatto per essere della partita per le primarie ci vuole anche la buona volontà del partito di maggioranza relativa, in questo caso del partito democratico, di coinvolgere le forze di centro-sinistra. Non c'è stata questa volontà, ci si è focalizzati su delle primarie di partito. Noi ci eravamo permessi semplicemente di esprimere una preferenza per un candidato come Chiera Fornara, che di per sé collegava e univa tutte le forze di centro-sinistra. Questo non è stato possibile, le primarie si sono concluse anche se con un risicato di stacco da parte di Riccardo Brezza, a cui vanno fatti sicuramente gli auguri, ma ha di fatto già escluso il resto della coalizione da un processo come quello delle primarie. Prima di tutto permettimi di ringraziare tutte le persone che hanno espresso la loro preferenza per la mia persona, che ha consentito di arrivare a un risultato sicuramente minimo, perché il 280 a livello provinciale è pochissimo, ma che personalmente mi soddisfa molto per la proporzione rispetto ai voti proprio della forza politica, perché quelle 640 preferenze mi consentono addirittura di posizionarmi al sesto posto a livello regionale, in questa particolare classifica che bilancia appunto le preferenze rispetto ai voti. Quindi assolutamente la soddisfazione è tanta, i 150 voti qua a Domodossolo, altre tanti da Crevola, diciamo, ai Valli Anticori e Formazza, ma poi un po' in tutta la provincia. Poi è chiaro che nel contesto specifico, eravamo appunto in coalizione con la candidata Pente Nero, c'è stato un risultato che era, come dire, previsto in un certo senso, è prevalso Cirio, a cui facciamo giustamente i complimenti e in bocca al lupo, il buon lavoro per questa legislatura, e sicuramente il fatto che si è partiti un po' tardi nel costruire questa coalizione ha sicuramente pesato.